Sono Diego Brambilla, rappresentante di Fede Rispettori, l'associazione degli ispettori tecnici della revisione ministeriale. Siamo gli operatori che materialmente effettuano le revisioni dei vostri veicoli alle dipendenze dei centri di revisione privati, delle autofficine. Ci sarebbe molto da dire a riguardo e sono anni che ingoiamo il rospo, ma ora basta. E non diciamo basta per interessi personali di categoria, ma per senso civico. Lo facciamo per tutta la comunità. Siamo sottopagati, non abbiamo un contratto nazionale e non abbiamo potere decisionale nonostante la legge preveda tutt'altro. Ma ora c'è un problema più grande, la nostra e la vostra sicurezza. Sì, anche la tua. Dovete sapere che la privatizzazione avvenuta a partire dal 1996 ha portato allo sfacelo del settore. Certo, il servizio è diventato più capillare, più rapido, ma la sicurezza che fine ha fatto? Quando la revisione dei veicoli era competenza esclusiva della motorizzazione, è vero, si verificavano casi di corruzione, incompetenza, inefficienza, ma erano tutte situazioni frutto della libera scelta delle persone. Un dipendente pubblico aveva e dà tuttora lo stipendio garantito, quindi non ha conflitti di interesse con l'utenza. Ciò significa poter attribuire ai veicoli sottoposti a revisione il giusto esito, a prescindere dalla soddisfazione o meno del proprietario del veicolo. Con la privatizzazione si passa da un regime di monopolio alla concorrenza fra le imprese basata sui principi del libero mercato. Nessuno ha più lo stipendio garantito e per sopravvivere è indispensabile guadagnare la preferenza dell'utente che diventa cliente. Qual è la richiesta dell'automobilista medio? In cosa consiste la domanda? Revisioni rapide chiudendo un occhio, anzi due. Tanto la uso poco, tanto le gomme mi arrivano domani, tanto ci vado solo in campagna e così via. E non indignatevi perché a chiunque quando vengono preventivate centinaia di euro di riparazioni cerca sempre la scorciatoia, chiunque. E l'ispettore privato cosa dovrebbe fare? O meglio, la politica aziendale del centro revisioni quale dovrebbe essere? Conformarsi alla domanda e sopravvivere oppure fare i paladini della sicurezza stradale rischiando il posto di lavoro o l'attività. Un privato non potrà mai esercitare la funzione di pubblico ufficiale. Ora, mi rendo conto che quanto detto finora non piacerà a molti. In primis a chi eroga nel rispetto della legge questo servizio, ma anche a tutti i cittadini che si sentono truffati dallo Stato per questa farsa biennale. Ma non c'è tempo per le discussioni. Oggi, ribadisco, abbiamo un problema più grande. Tutti quanti. Con il DL Infrastrutture, pubblicato in Gazzetto Ufficiale il 10 settembre, è stato completato l'iter dell'esternalizzazione delle revisioni dei veicoli pesanti. Ciò significa che bestioni da 18 metri per 44 tonnellate finiranno per essere controllati esattamente come la vostra automobile, come la vostra moto. E pensate al potere contrattuale che avrà un titolare di flotta di veicoli pesanti, con manutenzioni che costano decine di migliaia di euro, ad unità. Ora mi chiedo, anzi vi chiedo, dove vogliamo andare a finire? Vogliamo continuare a fregarcene della sicurezza stradale? Indipendenza è la parola chiave. Chi sarà chiamato ad ispezionare i veicoli dovrà essere privo di qualsiasi forma di conflitto di interessi, con il cliente e con il centro di controllo. Ispettori privati, materzi, super partes, nelle condizioni di giudicare in modo imparziale i veicoli. Solo così sarà garantita la nostra e la vostra sicurezza. Aiutami a raggiungere il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Condividi questo appello. Grazie. Grazie.